Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Leggo che Bergoglio, a capo del sinedrio liberal progressista e della neochiesa post-cristiana, ha dichiarato guerra alla messa in latino, così titola testualmente il messaggero. Ha dichiarato guerra alla messa in latino. Si potrà fare se e solo se autorizzata. Insomma, Bergoglio ancora una volta prende posizione contro la tradizione, contro il depositum fidei, contro l'idea che la Chiesa debba essere depositaria del messaggio divino e debba rimanere fedele alla propria tradizione. E questo, badate, è un principio che innerva l'intera opera di Bergoglio. Possiamo dire che è una linea guida del suo pontificato, tra virgolette, come sapete nel mio libro La fine del cristianesimo, ho sostenuto che Bergoglio non è il pontefice, da che Ratzinger nel 2013 rinunziò al ministerium ma non al munus e quindi rimase pontefice in sede impedita, sicché Bergoglio non è il papa. Chi è interessato può approfondire leggendo il mio libro La fine del cristianesimo. Bergoglio ha una missione fondamentale, che è quella di distruggere il cristianesimo, di farlo evaporare. Io uso questa immagine. Il cristianesimo non viene posto fuori legge, ma viene fatto evaporare, viene portato nel precipizio della dittatura del relativismo, della civiltà tecnonichilista, viene di fatto dissolto nel nulla. E questo attacco costante alla tradizione, questo ammodernamento continuo del cristianesimo finisce non già per ammodernarlo ma per distruggerlo, perché evidentemente da un punto di vista cristiano non ha alcun senso ammodernare il cristianesimo, rinnovarlo, reinterpretarlo secondo i principi della mondanità. Bisogna, se si è cristiani, mantenere fede alla parola di Dio. Il paradosso di un progresso nel cristianesimo è tutto nel fatto che progredire nel cristianesimo significa distanziarsi dalla parola di Dio, anziché conservarla e quindi precipitare nell'abisso. E lo dico, ripeto, da una prospettiva totalmente laica, qual è la mia, e quindi non sospetta di essere partigiana della Chiesa e desiderosa di difenderla per partito preso. La mia è una posizione laica e, ripeto, giudico Bergoglio come il dissolutore, come l'affossatore finale del cristianesimo nella sua variante cattolica, da che egli sta sostituendo il cristianesimo con una religione smart, fluida, con una fede low cost, dove le omelie lunghe vengono giudicate noiose, Dixit Bergoglio, dove la messa in latino deve essere superata perché appartiene a un passato definitivamente tramontato, insomma un neocristianesimo che non è più cristianesimo ma è semplicemente la religione del nulla, questa è la religione di Bergoglio, la religione del nulla, che di fatto diventa semplice megafono della civiltà neoliberale e del suo pensiero unico politicamente e ormai anche teologicamente corretto, di cui Bergoglio è massimamente espressione. Grazie.